Frank Isley come in ogni cosa la verità sta sempre nel mezzo però nel caso di Final Fantasy 15 dal mezzo propende sempre un pochino verso lo schifo però non è propriamente così lo schifo assoluto nel senso che c'è del buono e quindi ragazzi io giocherò, mi rigiocherò Final Fantasy 15 cercando il buono quel poco di buono che questa produzione ha e io l'ho giocato al day one l'ho giocato al day one chiaramente senza i DLC senza le migliorie senza la possibilità di svuappare personaggi durante le battaglie in realtà sono terrorizzato all'idea di usare pronto e avere la visuale simile FPS col bazooka cioè non voglio non voglio però sono comunque curioso di giocarmi DLC Episodignis secondo me non è così malaccio da quel poco che ho visto e sentito Episodardin forse forse magari è anche figo e allora ragazzi cominciamo questa avventura insieme e sappiate che rusherò come un disperato perché il mio obiettivo è finire tutto in una settimana quindi giocherò pomeriggio e sera e anche notte la giocherò sempre ragazzi quindi sappiate che ogni volta che avete tempo libero andate qui su Twitch e mi trovate un saluto a ta 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 a King un saluto a Black un saluto a Fenix un saluto a Burixia Chan un saluto a Panfilo un saluto a Gauss e un saluto anche a Micione insomma l'avete visto che è qua sempre con me anche se adesso ci sono tipo 30 gradi no non è vero non ci sono 30 gradi però comunque inizia a fare caldo e io ho sto cuscino caldo tra pancia e gambe sono emozionato? no no però sono curioso perché io il gioco l'ho giocato solo una volta in blind al day one l'ho giocato con con l'entusiasmo l'ho giocato con l'entusiasmo che merita ogni nuovo Final Fantasy ci deve essere entusiasmo quando tu ancora non conosci il gioco lo devi giocare con entusiasmo chi sta approcciando Final Fantasy XVI con scetticismo lo fa chiaramente per colpa di questo Final Fantasy XV ma si sta precludendo magari di poter vivere una buona esperienza per dei pregiudizi basati fondamentalmente su una paura che è ingiustificata quindi ragazzi anche questo Final Fantasy XV io lo inizierò lo reinizierò con tutte le migliori intenzioni ovviamente ragazzi sappiate che partiranno le bestemmie ogni due secondi perché appena vedrò delle robe che a livello di game design fanno cagare e non hanno senso non mi tratterò voi siete qui per questo dopo tutto lo so lo so cominciamo scegli la modalità di gioco se essendo facile inizierai a giocare con battaglie semplificate aiuti i momenti critici standard standard ragazzi cioè già già pura standard si gioca da solo dovrei cominciare a giocare vuoi seguire il tutorial no non voglio seguire il tutorial anche se l'ho giocato tipo 6-7 anni fa non voglio seguire il tutorial sarete voi il mio tutorial ragazzi nel buio di una notte che sembra non avere fine il destino del mondo è nelle mani del futuro re non la trovi Fenix perché è un è un arrangiamento è una cover questa è la storia di un re destinato a salvare il mondo poi ti mando poi te la mando poi te la mando che bello incredibile uno inizia così e dice beh minchia è la cosa più incredibile che si sia mai vista non abbiamo nemmeno l'interfaccia non c'è manco l'interfaccia schermo che cazzo devo fare aspettate che abbassi un po' il volume abbassi un po' il volume che è un po' troppo alto ma che cazzo devo fare vabbè tutto scriptato dai tutto scriptato arrivano mi prendono mi sbattono di qua mi sbattono di là ok ok poi dicono che il battle system di fantasy 16 è confusionario mi hanno preso mi hanno sballottolato di qua mi hanno sballottolato di là che figata oh cioè ragazzi guardate che città guardate che architetture se sta roba se sta roba fosse esistita nel gioco vai sasuke è tipo uno yakuza gladio io non l'avrei mai fatto entrare a palazzo uè grande sprezzante uè grande eleandro era qualcosa che andava fatto leandro lo accompagneremo il principe è altissima si si figata altissima ragazzo ragazzi regis è un personaggio della madonna ed è totalmente stato sprecato queste sono le ultime parole che regis dirà a suo figlio ma suo figlio non lo sa non lo sa nemmeno regis cammina a testa alta figlio mio questa c'è se tu ci pensi se voi ci pensate che queste sono le ultime parole che un padre dice al figlio è pesantissima sta roba è pesantissima solo che porco zio hanno sbagliato tutto hanno rovinato tutto aveva delle premesse incredibili cioè io c'ho i brividi cioè c'ho i brividi nonostante questo gioco sia un meme vivente io c'ho i brividi ma hanno a parte che anche i caricamenti mi fanno venire un po' i brividi ricordo che stavo su playstation 5 e però è veramente un peccato cioè hanno veramente sprecato personaggi lore storie hanno sprecato tutto ciao Andy e sì lo potrei recuperare in qualche momento in qualche modo non so ancora come ma sicuramente potrai recuperarlo sì nella versione vanilla ragazzi se non mi sbaglio ragazzi nella versione vanilla il discorso di Regis non c'era o sbaglio adesso io non mi ricordo non mi ricordo c'era? c'era ok uè grande sbilli lo conosci solo di fama aspetta di vedere adesso aspetta adesso come ti gasi adesso arriva la parte più gasante in assoluto anche questo è questa è la versione completa grande m46 vai spingiamo e come io sto premendo i tasti ma non fa nulla premo in avanti stand by me stand by me è un tocco di classe livello 99 ah ok il grilletto ah ok è scritto è scritto in piccolo 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 stand by me è meraviglioso stand by me è meravigliosa la versione di Final Fantasy 15 ammetto che al tempo me la sarò riascoltata almeno un 40 volte però è sprecata è sprecata con questa scena così è sprecata sta roba qui non ha senso bellissimo che sta Ignis alla guida Ignis mica è scemo si si no il combattimento di notte è impossibile non è proprio fattibile ragazzi Ignis è Dio Ignis è Dio Ignis è lo Shitanuzuki del party guarda è lo bello impassibile Ignis questo gioco qui è proprio odio amore odio amore odio e amore se sta qua non la fanno porno star non sono contenti cioè c'ha degli shorts manco Riza manco atelier Riza stuttering c'ha tipo pure staccazzin qui c'ha tipo un frame 15 frame per second ragazzi va tutto a scatti incredibile incredibile Katai alle volte bisogna bisogna prendere di pancia le proprie paure è una terapia d'urto probabilmente perché c'è Cindy sì va a scatti perché c'è Cindy c'è hanno esagerato hanno esagerato hanno esagerato hanno esagerato hanno esagerato con Cindy hanno veramente esagerato ho finito il vanilla non ho giocato ed il sì mi sono rifiutato cammina si si è Amorant praticamente sulla mia mappa in alta destra è indicato un ristorante wow provate a farci un salto è GTA ragazzi stiamo giocando a GTA vai un bel autogrill un autogrill in mezzo al nulla con una roulotte perché a volte Marco bisogna prendere di pancia anche le tue paure più assolute ma il fatto che tu possa usare il party non vedo come lo possa rendere una cosa positiva è un'altra è un'altra These nasties here have been a real pain in the rear You boys are a brave bunch Much obliged Wee, grande lucchetto Ma si possono accettare tutti? Ah no, devo annullare? No, non voglio annullare Voglio prenderle tutte Avete proprio un bel fegato, eh sì, eh sì Ah, devi autorizzare il controllo del party? Va comprato? Ma è gravissimo Ma non si è mai vista l'arma del genere Mamma mia Il principe è il povero Tirete consiglio a Cindy Mamma mia ragazzi, che imbarazzo Ragazzi, ma voi non avete idea Va tutto a scatti Cioè, solo su PlayStation 5 Va più scattoso di Non lo so Non mi ricordo giochi così scattosi Cattosi veramente Zero proprio Quanto dura live Guarda, giocherò pomeriggio, sera e notte Fino a quando non lo finisco Fino a quando non lo finisco No, 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 no Tears of the Kingdom È un fiume È un fiume che scorre A confronto Ah, è vero L'avevo rimosso L'avevo rimosso all'inizio Cioè, ti obbligano ad andare a fare subquest a caso Fetch quest Cioè, l'inizio di questo gioco è andare in giro a caso a fare fetch quest Porca troia Me l'ero dimenticato Me l'ero dimenticato Poi guarda di qua I Bad Street Boys Che sono lì Sembra che Gli stanno facendo servizio fotografico Si sono messi in posa Mamma mia Missioni a tempo Ma a me che cazzo me ne frega Qui hanno voluto fare una sorta di sferografia Ma è una roba meno riuscita Proprio in assoluto Cioè, proprio non si capisce niente Niente Permette di spostarsi a mezz'aria Con Permette difensive senza consumo di energia magica Riduce il consumo di energia magica quando si è in difensiva Incrementi i danni inflitti con le combo se non si viene coltiti Wee, grande zebbe Se potessi scegliere con chi scambierai i capelli Fammi vedere un po' Tra questi qua dici Eh, cazzo Eh, eh, eh Direi Direi Gladio, dai, Gladio, Gladio Così diventerei stile il meme di Johnny Cage Con i capelli lunghi sbolazzanti al vento Se ci fosse almeno Una 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 parte in Thai dove mi posso scopare Cindy Io direi Vabbè Un gioco da dieci Mi posso scopare Cindy Ma manco te la puoi scopare Non ha senso sta cosa Allora Io nelle opzioni avevo fatto delle robe Ma le devo rivedere un attimo Perché Su audio Avevo abbassato la musica Ma in realtà bisogna abbassare le voci Vai Iniziamo a seguire i puntatori a caso Stile open world GTI Company Mamma mia No vabbè No vai ragazzi Allora io Non sono uno che guarda il frame rate Ve lo giuro Ve lo giuro ragazzi Io non sono uno che guarda il frame rate È la cosa più scattosa che abbiamo visto Cioè mi dà fastidio Mi dà fastidio È troppo scattoso Mi fa incazzare Vai Allora ragazzi Adesso vi faccio io il tutorial sul battle system Vi faccio il tutorial del battle system di Final Fantasy 15 E vi dimostro quanto è tecnico e ben fatto rispetto a quello del 16 Perché è la roba più inclusiva che esista Cioè chiunque può giocare a questo gioco Con ottimi risultati E facendo delle robe coreografiche a livello 99 Ho bisogno di amici delle vicinanze Controlla l'indicatore pericolo Allora Io premo Allora vediamo Vediamo eh Come Ma scusa Qual è il tasto però perché Ah ecco Ah ecco Ragazzi vi rendete conto Soltanto con l'imposizione del mio pollice Io ho sconfitto questi nemici Cioè capite quanto è inclusivo E avete visto che mega acrobazie della madonna Cioè Guarda Cioè io Sono spettatore anch'io Ragazzi stiamo Tutti guardando la live Di Final Fantasy 15 E anch'io sono con voi Sono seduto Bello comodo Sulla poltroncina Come spettatore È meraviglioso È meraviglioso È meraviglioso Meraviglioso Anch'io continuavo a premerlo Ai tempi anch'io continuavo a premerlo L'ho scoperto Verso la fine del gioco Che bastava tenere premuto Però le musiche sono belle eh Le musiche ragazzi Sono belle Leon preferisce questa Final Fantasy 7? No Non ne sono certo No 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 ragazzi Se non mi mandate il video dove lo dice Per me è una cazzata Adesso non esageriamo No la roba che La roba che è strana È che hanno cambiato il battle system Perché prima Ah no ok ok no ok Era R1 Per evitare gli attacchi nemici Allora per schivare gli attacchi Allora qui abbiamo un problema di dislivello di Abbiamo un problema di dislivello di musica Perché durante sulla world map è più basso E durante le battaglie si alza Dicevo Per attaccare devi tenere premuto Cerchio E per schivare devi tenere premuto Quadrato E schivi tutto eh È meraviglioso Guardate Guardate che potenza Vai Vai a parte che Cioè non mi attaccano Non mi attaccano Non mi attaccano Ragazzi Cosa fanno? Sono qui a guardarmi Guarda vai Cioè ci lamentavamo Dei nemici di Final Fantasy XVI eh Ci lamentavamo Dei nemici di Final Fantasy XVI Poi tra l'altro c'è Allora aspettate No questa è la roba ancora più incazzosa Eh Per schivare Per schivare Devi premere quadrato no? Ma poi Per parare Una volta che hai schivato Devi premere cerchio E Da qui a qui Come ci insegna il buon Zelda Che fa da qui a qui spesso Eh È scomodissimo È scomodissimo Da qui a qui Cioè ma metti da qui a qui Porco zio Vabbè Vabbè Wey grandi ladri in casa No 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 C'è gente C'è gente che non capisce No no aspetta aspetta Dilla bene Katai C'è gente che non capisce un cazzo Ok Il mondo è pieno È pieno Hanno Hanno anche il diritto di voto Fanno anche i figli Purtroppo fanno anche i figli E questo è il problema Ma il salto c'è Che non mi ricordo Sì c'è Guarda abbiamo anche il salto Questo sì che è un action game Ragazzi Però stranamente no Questo è un action game Dove tra l'altro Nella versione vanilla Usavi soltanto Noctis Eppure Fanno la fantasy 16 È una merda Perché è un action Il problema di questo gioco Non era che era un action Il problema di questo gioco Era che era un action Ma poi in realtà Non c'era il battle system action Cioè non c'era proprio il battle system Tu premevi i tasti E si giocava da solo Infatti la fantasy 16 Puoi giocare tu Alla gente non va bene Non capisco un cazzo Ragazzi dai su Eh però Lo so lo so Ho già fatto Ho già fatto Pa 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 E poi Rararà 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 Capo Capolavoro! Final Fantasy XVI, merda! Final Fantasy XV, capolavoro! Capolavoro! Un saluto a Tenkai Star! Anche se non ci possono essere due Tenkai Star. Cioè, lui è fake. Sono io la Tenkai Star. È impossibile. Ma infatti stavo pensando di prendere dello scotch e mettermi lo scotch su cerchio e su R1. E poi nulla. E poi guardo. E poi guardo. Ma stai scherzando? Cioè, Suikoden è Dio e sta pure per tornare. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Però sono io la Tenkai Star. Quindi devi cambiare nome, mi dispiace. Ragazzi, valsa, valsa, valser di fantastica, vals di fantastica. Come cazzo si chiama? È un capolavoro, meravigliosa. È una delle musiche più belle che esistano nella storia dei videogiochi. Vals di fantastica, ecco. Vals di fantastica. È una delle poche cose che salva questo gioco da un quattro. La retrospettiva di che cosa? Panfilo. Ma è Panfilo o Panfilo? Uè, grande Vince. No, ma il bello, ragazzi, è che io, no, quando l'ho giocato la prima volta... Ma che cazzo? Io quando l'ho giocato la prima volta ero lì tipo a premere i tasti, a impegnarmi. In realtà... In realtà basta questo. Pa, 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 pa. Ma che cazzo la prima volta ero lì tipo a premere i tasti, a impegnare i tasti, a impegnare i tasti. Blah, blah, blah. Cioè, capite che... Sì, sì, bravo, ridi, ridi, scemo, ridi, 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 ridi. Cioè, capite, ragazzi, è questo il problema. Cioè, se tu ti ripremuti questi due tasti, Noctis addirittura fa proprio l'auto... Si proietta in automatico contro il prossimo nemico. È una roba, è una roba che... Boh. No, ma poi scusatemi... Allora, scusatemi, no? Poi tutti a dire, fai la fantasy 16, corridoio. Fai la fantasy... Mugiwara! Fai la fantasy... Vediamo se... Cosa succede? Si ferma? Eh sì, è mica ti investe. Però se mi scanso, poi passa. Io mi rimetto qua e basta. Vai. Tac. Eeeh! Fottuto! Comunque, dicevo... Cioè, allora, tutti a dire... Eh, fantasy 16... Corridoio. Corridoio, che merda, corridoio. Sì, ho capito, ma qui hai un open world che... Cioè, non è niente. È un deserto. Non c'è niente. Terra. 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 Terra e sterpaglie. E casette abbandonate. Cioè, ma manco... Manco Kenshiro. Manco l'ambientazione di Kenshiro è così desolata. Cioè, è una roba... È una roba... È una roba imbarazzante. Chiamati Genkai. Chiamati Genkai. Ryouu può essere confuso. Invece, se ti chiami Genkai... È lui. Ah, mi devo pure proiettare sulla pala eolica. Ma non serva a niente. Perché mi devo proiettare sulla pala eolica? Ma non mi fa proiettare. Perché mi devo proiettare? Perché mi devo proiettare? Cioè, non ha senso. Non ha senso. Basta fare così. Non ha senso. Dove cazzo sta andando? Ah. Beh, grande generico. Il fatto di potermi sentire il soundtrack dei vecchi Final Fantasy, tra cui... Ma... Sì, ma anche no. Cioè, nel senso, se voglio vado su YouTube e me l'ascolto quando voglio. Sì, voi non riuscite molto come cazzo, ma... Ma che dici? Poi mettere il papà a resta per me? Carissima Ida. Lo facciamo gratis? No, io non faccio mai nulla gratis. Infatti sto giocando a Fantasy XVI. 15, scusate. Facciamo decidere gli altri. No, è Ignis ma inculato. È Ignis ma inculato. Sono felicissimo. È un capolavoro... Si gioca da solo? Io sono spettatore come voi. Bellissimo. L'ho completato ma non mi ricordo nulla. Eh, basta questo. Basta questo. Io... Anch'io non ricordavo nulla. Poi ho ricordato... Poi ho ricordato a un certo punto e volevo morire e ho dimenticato di nuovo. Nella demo di Final Fantasy XVI da solo hai un battle system 30 volte più completo di quello di questo gioco contro il boss finale. Grande fata... Fatalus. Fa... Fa... Fa Fatalus. Ragazzi ma voi vi impegnate a fare dei nomi che... Cioè sono degli scioglilingua. Vabbè nulla. Andiamo a spasso. 100 euro per tenere due tasti pigiati per 40 ore. Per 40 ore. Che poi ho fatto il conto sono 2 euro e 50 all'ora. Dovevo chiedere di più, porco zio. Cioè manco un lavavetri prende 2 euro e 50 all'ora. Stai per partire a caccia di una bestia temibile. Meglio non rischiare e accamparsi in un rifugio in zona. In questo modo potrete riposare salendo di livello. Hanno copiato i souls. E Ignis cucinerà una cena sostanziosa. Che vi darà le forze per affrontare la bestia. vorrei capire Ignis come farà a cucinare da cieco. E diciamogli di sì. E intanto decide sempre Ignis. Cioè la regola di questo gioco è che decide sempre Ignis. Ma poi scusate Ignis non suda, non ha caldo con sta giacca di pelle. Questa giacca di pelle non ha caldo, no? Uè, grandi carmine. Molto parlo. Andiamo ad accamparci, va? Ma di botto è arrivata una tormenta di sabbia? Come cazzo è sta roba? Così, di botto. Comunque la colonna sonora di Final Fantasy 15 resta da Dio, eh? Voto 10. Assolutamente voto 10. La Shimomura ha fatto un lavoro incredibile. E accampiamoci. Una migliore colonna sonora della Shimomura? Eh, porco zio. Come cazzo? Troppo. Forse, forse è Final Fantasy 15. Forse è Final Fantasy 15. Kingdom Hearts tanta roba, eh? Ma Final Fantasy 15 ha più tracce belle. Cioè, Kingdom Hearts Kingdom Hearts ha delle tracce belle. Final Fantasy 15 ne ha di più. Anche, anche Live Alive comunque aveva una colonna sonora della Madonna, eh? La Shimomura ha fatto anche il tema di Guile di Street Fighter 2 comunque. No, quello è Ryu. Quello è Ryu. Quello, Ranger. È Ryu quello? No, è Guile, è Guy. No, è Guile. No, è Guile, è Guile, è Guile, è Guile. È Guile. Esatto. tanta roba cioè voi immaginatevi uno stronzo che inizia questo gioco in questa maniera come ci resta cioè come ci resta cioè io mi ricordavo l'inizio di Final Fantasy 7 o Final Fantasy 9 ma anche Final Fantasy 10 ma pure Final Fantasy 13 Final Fantasy 13 è un inizio della madonna si perde poi e poi ti trovi a fare sta roba cioè ma come hanno potuto pensare a mettere un inizio del genere in sto gioco cioè almeno metti un inizio a cannone cioè bastava bastava mettere l'impero che attaccava come cazzo si chiama la città la città di Noctis mettevi l'impero che attaccava e Noctis che doveva fuggire e già avevi un inizio adrenalinico e invece no e invece no cioè chiamavano me glielo fixavo io sto gioco glielo fixavo io il 12 così così il 12 così così perché la cioè gli eventi iniziali sono fighi ma la realizzazione è così così e poi dura relativamente poco l'inizio di Final Fantasy 12 è il prologo in cui usi il fratello di Van dura troppo poco ma c'è la morte del padre solo nella versione extended che è questa nella versione vanilla non mi sembra che il padre si vedesse morire moriva nel film moriva nel film non non si vedeva morire nel gioco non mi sembra di ricordarlo cosa cos'è sta merda ma che cazzo me ne frega di fare le foto cioè ma ma per chi cazzo mi hanno preso cioè io voglio giocare a Final Fantasy e mettono le foto delle poppe per salvare i progressi di gioco manualmente aia mi è saltato sulle palle ah che fatica puoi salvare i progressi di gioco manualmente dal menu di pausa tranne quando ti trovi nella foga della battaglia meno male che hanno scritto foga con la O come un padre a lei sempre grande Melutz ragazzi ringraziate tutti Melutz che è stato lui a dare la botta finale di donazioni per farmi iniziare questo capolavoro quindi è in parte per il 25% e merito di Melutz questo inizio ragazzi è dedicato a Melutz eh il signor Giancarlo ma secondo te io sto qui a leggere le vostre cazzate andiamo muovetevi state sempre a perdere tempo voi non sei riuscito a finirli eh eh ti capisco ti capisco io al 13 ragazzi sono arrivato al boss finale dopo tipo tre volte che ho provato a farlo che mi stanchillava il personaggio che usavo perché nel 13 tu usi un personaggio alla volta gli altri sono usati contemporaneamente dal computer se ti ammazzano il personaggio che usi è game over cioè gli altri non ti possono risuscitare o non è che ti switcha il controllo agli altri no se quello che controlli muore è game over il boss finale usava death il boss finale usava death e ovviamente per avere oggetti contro death per avere oggetti contro death dovevi farmare all'infinito ragazzi ma da quanto stiamo correndo ok vediamo se la mia tecnica funziona anche con questo dovresti averne anche tu questo è feroce ma che cazzo stanno facendo premendo L1 più croce puoi chiedere al compagno di usare le tecniche ausiliare a loro assegnate con l'uso le tecniche salivano di livello aumentando la potenza e il tasso critico io ci provo vediamo vediamo un po' vediamo un po' se soltanto così riusciamo a farlo per l'uso le tecniche Cioè, avete capito? Avete capito di che cosa stiamo parlando? È chiaro? Solo che stavolta è una feature base del gioco, esattamente, esattamente. Non puoi sti dialoghi inutili, sti dialoghi inutili, sti scelte ridicole. Significa bene. Sì, sti aspettando nel garage. Ho capito. Terrificante, terrificante. Tra l'altro, ragazzi, mi sono accorto che io sto coprendo il coso degli HP. Quindi magari mi sposto... Mi sposto di qua. Mi sposto di qua, così vedete gli HP. Perché... Oh, carissimo Callandorf, benvenuto. Ma no, ma no, ma io sto giocando... Io me lo voglio godere il gioco, però ci sono delle robe... Perché a me, Frankie... Baldo fa cagare, Baldo fa cagare, Baldo fa cagare. Ci sono delle robe che comunque... Perché non riderci su? Ma poi, scusate... Lui si può teletrasportare, no? Però... Non può... Non può... Cioè, qui non può... Non può arrampicarsi col teletrasporto. No, non può. Non si può fare. Ciao, Erika! Ciao, Erika! Io non sto cercando nulla. Io l'unica cosa che sto cercando è di finire questo gioco il prima possibile. Così, debotto, a caso. Ma non ha senso! Ma non ha senso! Così... Ma perché ci è passato così in testa? Ma ce la facciamo a far stare questa... Ecco. No, non sono fan di Diablo, però Diablo 4 è molto bello. Lo trovo... Lo trovo... Lo trovo addicting. Bello, bello, bello. Ci sono un sacco di build diverse. L'endgame offre parecchio. Solo che adesso mi sa che... Non avrò molto tempo per giocarci tra Final Fantasy XV e Final Fantasy XVI. Però... Sicuramente, sicuramente poi ci torno. Sicuramente poi ci torno. Tanto poi inizierà la season, la prima season. Magari mi farò un personaggio apposito per la nuova season, perché... Questo personaggio qui che ho fatto... Ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa. Ma i teletrasporti, ragazzi, ci sono? Che non mi ricordo. Cioè, uno volendo... Si può teletrasportare? Cioè, volendo mi potevo teletrasportare? Cioè, per andare qui... No, perché... Allora, aspetta, aspetta. No, no, no. Qua mi dice torni al luogo dell'ultima sosta. Assolutamente no. Ultima sosta... No, niente. Sono tutti in nero. Ma comunque, vi giuro ragazzi, non era così scattoso quando l'ho giocato la prima volta. Secondo me sono stati gli vari aggiornamenti che l'hanno reso così scattoso. Cioè, va proprio scatto... Cioè, ma andrà tipo a 15 fps. Devono essere stati i vari aggiornamenti che hanno fatto. Praticamente sono quattro influencer. All the more reason to ride with care. Oh, and before I forget... Would you all mind making a little delivery for me? Metti prestazioni? Ma perché? Cioè, non è di default? Andate al motel e vai. Cioè, tu hai giocato alla versione Day One senza patch Day One? Sì, ma il dopo sono tipo le ultime tre ore di gioco. E questo è il problema. Cioè, la storia vera inizia nelle ultime tre ore di gioco. Ma c'è una modalità... C'è una modalità... Non mi risulta che ci fosse una modalità... Risoluzione, ridotta, stabile... Ma che... Ma... Cioè, ma ce la fanno a fare queste cazzate qua. Cioè, alta, ridotta, stabile, preimpostazione. Cioè, ma non è norma... Eh sì, eh sì, adesso è fluido. Adesso è fluido. Ma... Ma... Cioè, ma... Ma come hanno potuto implementare una cosa del genere che andava a 15 fps? Ma poi di default... Cioè, io non lo sapevo. Io non lo sapevo. Mi sembrava che di botto il gioco si fosse rincoglionito. E l'avessero distrutto. No, adesso... Adesso... Adesso va bene. Adesso va bene. Follia. 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 No, no, ma non andava nemmeno chiamata ridotta. Cioè, tipo, ridotta è un nome che ti fa incazzare. Cioè, bisognava mettere una modalità... Una modalità fluidità... Modalità prestazione, modalità grafica, punto. E te la dovevano far selezionare all'inizio del gioco. Sì, manco lo scrivono, manco lo scrivono. Ma hanno speso i miliardi. Cioè, la roba... La roba scandalosa... Cioè, c'era la real... Con il quale si può fare tutto. Perché si sono messi... Perché si sono messi a fare... Perché si sono... Perché si sono messi a fare un loro motore proprietario? Cioè, è finita malissimo. Hanno buttato tanti di quei miliardi. Sì, e' stata un'escritto... Sì, che è fatta malissimo. Sì, io sono messi a fare... Sì, io sono messi a fare... Sì, io non ho portato... Sì, io sono messi a fare... Sì, io sono messi a fare... Sì, 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 sì. No, infatti, tra Fantasy XV e Forspoken hanno perso tanti di quei miliardi che non ha senso. Questa è la roba che salva il gioco. Valtifantastica salva il gioco. Più due punti solo per questa musica. Ma poi perché corrono Gobbi? Mi spiegate perché Ignis e Gladius correvano Gobbi? Assolutamente, Morgoth. La parola di un uomo vale più della sua vita. Anche quella di una donna, eh? Non è che le donne possono promettere le robe e poi fare come cazzo gli pare. Guardavano qualche cacca di triceratopo. Ma dove cazzo stiamo andando? No, comunque a parte di scherzi, credo che questo sia il prologo peggiore... Cioè, mentre Final Fantasy XVI ha il prologo migliore della storia dei GRPG, questo gioco ha il prologo peggiore della storia dei GRPG. Bisognerebbe fare un video dove metto, tipo, proprio in split screen, i primi 30 minuti di Final Fantasy XVI e i primi 30 minuti di Final Fantasy XV. Dovevo prendere la macchina? Può essere, non ho letto un cazzo. Può essere. Vabbè, ormai, ormai son qua. Ormai son qua. Eh, vabbè, ragazzi, ormai son qua. Dove sono i nemici? Ma io non voglio combattere, non voglio combattere. Non voglio. Un saluto a Black Cat. Vabbè, tanto ormai siamo arrivati. Ma poi almeno ci siamo ascoltati due minuti di Valsa of Fantastica. Neanche, 30 secondi. È partita e poi è finita. Ah, che bello. Che bello stare in mezzo al nulla. E poi riparte. Per altri dieci secondi. E poi va via di nuovo. Adesso si scopre che, si scopre, ragazzi, che senza macchina, senza macchina non si... Senza macchina non si attiva l'evento, ragazzi. Però il gioco non te lo dice. Nulla, raga. Senza macchina non si attiva l'evento. Quindi, devo riteletrasportarvi alla macchina. Incredibile. Vai. Torna la regalia. Vai. Incredibile. Incredibile. Guida manuale, navigatore... Facciamo guida manuale. Time to go. All right. Ma la regalia volante non ce l'hai all'inizio, vero? Allora, aspetta. Ascolta. Ma non si può cambiare la telecamera del... Ah, ok. Eisenpun, ha ecco. Mal si può cambiare la telecamera del... Monitor al palco di malecina... La regalia volante Ma non si può cambiare la telecamera. Ma non si può cambiare la telecamera. Ma non è mai rulee. Il cao di noi. Quella è andata. È benissimo. Biola e ribella. Ma non si può cambiare la telecamera di... Ma bei checklist. Ma le musiche di Final Fantasy dove sono? Sto andando dalla parte opposta. È vero. Io speravo... Io speravo che ci fosse tipo un giro da poter fare, una rotonda di incrocio, invece no. Ve lo faccio in retromarcia! Ma le musiche di Final Fantasy dove cazzo stanno? Ah, devo comprarle. Meraviglioso. Eppure io mi ricordo che ce le avevo... Vabbè. Ma in questo negozio qua si possono prendere? No. Aspetta, ma questo è il parcheggio di Cindy? Sì, sì, mi sa di sì. Molto bene. Ma devo anche fare benzina? Ma devi fare benzina, vero? Sennò poi si blocca la macchina. Fai rifornimento, vai, 5 gil. Magari costasse così la benzina. Ma se invece metto il navigatore? Vai. Tutto in ordine? Sì. Facciamo che mettiamo il pilota automatico e via. Che bello. Che bello. C'è pure la musica indiana, vai. No, forse è più greca. Vabbè. Autoguida. Autobattle. Ma è tipo Ricky Martin. Hanno messo Ricky Martin, ragazzi. Beh, Fenix, fatti due domande sul perché non ci sono nella host. Secondo me Yoko Shimomura si è opposta a far inserire sta roba in mezzo alle sue musiche. Ignis si occuperà di gestire il navigatore della regalia. Tu dovrai solo impostare la destinazione. Tuttavia Ignis si rifiuterà di mettersi al volante di notte. Per timore dei Daemon. Se vorrai fare un giro dopo il tramonto dovrai passare alla guida manuale. Eh, Regis. Hanno fatto anche il gioco di Regis. Era tipo un picchiaduro a scorrimento fatto da qualche coreano sottopagato. Praticamente con, tipo, due livelli in loop che dovevi giocare. Un saluto a Incandence. No, non lo dica ad alta voce che c'è chi si potrebbe offendere. Non io, eh, non io. Però c'è chi si potrebbe offendere. Ma questo flashback, ragazzi, c'era nella versione vanilla? Pure lei è un altro personaggio sprecato. Cioè, lei veramente era un personaggio della Madonna totalmente sprecato. totalmente. Porco Dio. Finalmente ci rivedremo! Vai, vai, finalmente ci rivedremo. Mettilo, mettilo, scrivi, 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 scrivi. Vai, vai, ci rivedremo. Non vedo l'ora di rivederti. Sarà indimenticabile. Ragazzi, non fate domande. C'è soltanto da apprezzare l'arte. Non c'è da fare domande. No domande. Fai a fantasy 15, no domande. Mai, mai. E ma dove cazzo dobbiamo andare? Dobbiamo andare qua. Navigatore. Vai. Vai. Altro giro in auto. In auto-auto. Ricky Martin. One guy. Vai. Ora e wah. Ricky Martin. For your backstory, Lady Luna Freya of Tenebrae has issued an official statement regarding the forthcoming treaty. Grazie a tutti. E loro lo sanno bene. Beh, Leandro, diciamo che alla fine Fantasy XV comunque ha tirato dentro un sacco di nuova fanbase. Alla fine, da quel punto di vista, è stato un successo. Il problema è che hanno tipo attinto dalla fanbase di GTA. Cambiamo musica, cambiamo musica. Ah, ecco, qui, ragazzi, c'è delle parti che mi ricordo. Il bar sull'oceano in mezzo al nulla. Cioè, non c'è niente, non c'è una città, non c'è un cazzo, c'è soltanto questo bar davanti all'oceano. Senza senso. Cioè, a livello proprio di architettura non ha senso questa cosa. Cioè, non ci sono città, non c'è nulla. Ma perché? Ma perché? Ma secondo voi, ragazzi, chi è, il vero? Se doveste designare un titolo del periodo di Final Fantasy XV, come vero Final Fantasy XV, cosa ci sarebbe? Persona 5? No. Cos'è che era uscito in quel periodo di Xenoblade 2? Ah, ecco, ecco l'altra stronzata. Mi sa che solamente dal... solamente dal... dal ponte di sopra puoi... Vabbè, manco, manco ti fanno sentire l'audio mentre te ne vai... cioè, giustamente non te lo fanno sentire se ti allontani, però... non è che uno può restare lì fermo 5 minuti. Beh, Final Fantasy VII Remake? Quando è che era uscito? 2018? Quindi, uh... pensi di fare un'ottima storia di Lady Lunafreya e tornare alla città di Crowne? No, non ho bisogno di riuscire a sempre. Seno Blade Definitive Edition è uscito dopo il 2. Non so, non posso credere che stai in un'ottima, ragazzi. Come si sente ora che è... Benvenuti a Golden Key. I'm afraid you're out of luck. Are we? The boats bring you here. What about... Well, they'll not take you for. And what's your story? I'm an impatient traveler. Ready to turn ship. The ceasefire's getting us nowhere. Sta musica fa molto kefka. Fa molto kefka. Fa molto kefka. È soltanto il boss finale, no? No, Ardyn è comunque... Ardyn è un villain della Madonna. Peccato che anche lui sia stato gestito malissimo. Malissimo. Cioè, io se fossi un boss finale mi comporterei tale e quale ad Ardyn. Identico proprio, identico. Cosmogonia 1, 6. L'immane titano. Potenza sconvolgente. E il tonante Ramu. Conoscenza sconfinata. La gracia di Shiva. Dolcezza senza fine. L'abissale Leviathan. Altezzosa superiorità. Il belligerante Bahamut. Orgoglio guerriero. L'ardente Ifrit. Infida ingannevolezza. Questi i sei che regnano su Eos, la nostra terra. Finito, basta. Non esageriamo. Questi NPC qua sembrano usciti... Da... Sembrano usciti da Life is Strange. Veramente. Forse in Life is Strange sono fatti meglio. In Life is Strange sono fatti meglio. Cioè, cazzo, questo è un Final Fantasy ma in line, eh? Ah, io me lo ricordo sto pezzo. Sto pezzo qui si vede nel trailer Omen. Sto pezzo qua. Questa scalinata qua si vede nel trailer Omen. Nel trailer Omen è tipo graficamente in CGI la cosa più incredibile mai vista. Qui sembra una roba PlayStation 2. Cioè, gli ambienti, ragazzi, veramente... Non ha sen... Non ha senso. Non ha senso. Ma questo... Ma questo è Ignis. Ma questo è... Ma è Ignis? No. Ma com'è possibile? Ma è il fratello di Ignis, ragazzi? Sono uguali. Raga, sono uguali. Raga, ma questo qua è il gemello di... Eh, togliti. Ragazzi, è il gemello di Ignis. È identico. È identico. Un saluto a Giardi. No, Omen, ragazzi, è quel trailer che io quando l'ho visto mi son detto questo sarà il più grande fantasy della storia. Poi ho iniziato a giocare e pian piano mi sono accorto che tutta la roba di Omen non esisteva nel gioco. E loro si erano parati il culo dicendo No, ma Omen... Omen vuole essere un retelling della storia se Noctis avesse viaggiato da solo senza i suoi amici. Sì, certo, va bene. Va bene, va bene. Cioè, non ho dubbi che sia così. Ma resta una grandissima paraculata atta a vendere un gioco che poi non è quello. Cioè, tu mi fai vedere una cosa in un trailer e poi il gioco non è quello. Non è quello. Grande Giardi! E ho deciso che me lo rigioco tutto perché il mio parere sul vanilla ormai è un po' troppo invecchiato ed è giusto rigiocarmelo completo e magari cambio opinione. Per ora non la sto cambiando ma magari, oh, andando avanti cambio opinione. In tutto questo è lì che dobbiamo andare. Quest'acqua non si capisce, sembra una piscina. Quest'acqua, ragazzi, sembra l'acqua della piscina. È una palude. Ragazzi, io bevo soltanto acqua, coca-cola o tè zero. L'alcol inibisce i sensi, non va bene. PS5, non si vede. Non si vede. No, 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 coca-cola zero coca-cola zero anni luce meglio della birra, ragazzi. La birra fa male al fegato ti gonfia, ti fa ingrassare ti fa puzzare una birra me la bevo, eh in compagnia me la bevo ma se sono solo se sono solo non bevo bevo solo in compagnia ma la fantasy 8 ma la fantasy 8 credo che non ce la farei non ce la farei ricominciarlo cioè se io mi ricordo proprio la parte iniziale nel garden era troppo lento era veramente troppo 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 lento cioè se tu prendi l'inizio di far fantasy 7 e l'inizio di far fantasy 8 ti rendi conto proprio che non si capisce come la gente che ha fatto far fantasy 7 a livello di ritmo di gioco abbia potuto fare far fantasy 8 mincino io voglio lui nel party sì era un filmato iniziale basta e comunque per me è superiore a quello del 7 il filmato iniziale del 7 a livello di regia per me resta superiore se ne hai giocato al tempo lo puoi giocare anche oggi ma a un ritmo troppo lento l'otto ma perché poi l'otto era un gioco dove dovevi vivere proprio le atmosfere del garden tipo scuola quindi dovevi parlare con ogni alunno dovevi passare tempo a giocare a carte la concezione di videogioco di oggi impone un ritmo più veloce un ritmo più andante fantasy 8 da quel punto di vista lì è invecchiato molto male resta comunque a livello nostalgico per me l'otto resta resta un grande gioco resta un grande gioco cioè comunque c'era una cura c'era una cura della madonna in tutto cioè l'otto a livello grafico ragazzi non ci dimentichiamo che l'otto cioè se oggi noi giochiamo i grpg con questi tizi non in super deformed è perché l'otto è stato così coraggioso da togliere di botto l'Sd e ai tempi ragazzi non era stata presa bene ai tempi eravamo tutti incazzati neri che fai a fantasy 8 non era SD come fai a fantasy 7 ma i buchi di trama dell'otto anche se c'è Calandor in live ti voglio bene ma lo dico sono anni luce più sensati dei buchi di trama di Xenoblade 3 che in parte sono stati corretti dal DLC che però se uno non si gioca al DLC si tiene i buchi altri buchi di trama di Xenoblade 3 come ad esempio perché n non si trasformi manco manco il DLC te lo spiega manco il DLC te lo spiega anzi ne approfitto Calandor perché n non si trasforma secondo te ma se io voglio dormire dove cazzo devo andare al bar ma sono lontanissimo cioè devo dire no qua si può dormire no devo tornare al bar no aspetta ma che bar salvo il cielo salvo il cielo il cielo è bello l'acqua sembra quella di una laguna alla roulotte al bar non si può dormire e accampiamoci fuori ma scusate c'è il bar che è gigante cioè vuol dire che non ha due camere no non ha due camere alla roulotte alla roulotte ah eccola lì la roulotte che felicità no non l'ho droppato è semplicemente che non è roba da live non è roba da live una volta ne ho sfondata una di quelle sedie lì le vedete quelle sedie lì di plastica bianche è gigia è gigia che vuole attenzione è disperata è disperata gigia il problema è che tutti mi chiamano ogni due secondi pa 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 oh mamma mia aspettate che me la metta addosso eccola qua ecco vai ciao Kuro Nabi basta finito posso possiamo abbiamo finito di perdere tempo cioè ecco però sono stati i maghi del farti perdere tempo qualsiasi cosa tu voglia fare ti fa perdere tempo ma allora la cosa degli amiconi cioè da un lato ci può anche stare ci può stare cioè il tema dell'amicizia è un tema importante ma è raccontato malissimo secondo me cioè è fatto malissimo in sto gioco qui è fatto malissimo però il tema dell'amicizia è molto importante cioè no aspettate un attimo raga cioè ma veramente cioè tipo qua non mi fa vabbè c'è il salto c'è il salto non rompiamo le palle su tutto vai serviamo i punti esclamativi eh la roba dell'orfanotrofio è gravissimo la roba la roba dell'orfanotrofio io quando ho scoperto la roba dell'orfanotrofio di fantasy 8 ci sono rimasto non male di più ci sono veramente rimasto malissimo no vabbè ma non serve fare il pieno siamo siamo ancora abbastanza pieni ma lui poi è un re cioè lui avrebbe soldi infiniti e invece non ha soldi infiniti la penso come te luna luna era un personaggio della madonna un personaggio che per la prima parte del gioco quando la devi ancora incontrare ti aveva creato un'aspettativa mostruosa anche i trailer hanno giocato la loro parte i vari i vari flashback e poi e poi e poi e poi cucurucucucu e poi arrivare dinchan e ci trolla ma sì parcheggiamo proprio a caso maful tanto cioè cazzo ce ne frega Aranea Aranea cioè è palese che l'avessero inventata per farla unire al party a un certo punto e poi non succede e sta cosa è orribile secondo me Aranea si doveva unire al party tra l'altro Aranea proprio a livello di concept è stata disegnata da Ferrari da zero l'ha proprio fatta Ferrari senza uno schizzo di Nomura Vabbè ho capito ma cioè se io vivo negli Stati Uniti e tu vivi in Italia e tu sei un re negli Stati Uniti vai a un banco del cambio e cambi i soldi della tua valuta cambi i dollari in euro e poi vai a farti il viaggio in Italia scusa non è che vai in Italia senza un soldo o no? ma sì gli avrebbe preso comunque tutto fosse stato Noctis da solo ok con uno come Ignis insieme a te con uno come Ignis insieme a te secondo me a livello di storia non ti saresti dovuto far fregare ecco una roba figa di questo gioco che ha un po' copiato ha un po' copiato da Xenoblade perché qui comunque c'è un po' di ispirazione presa da Xenoblade sono sti mostroni giganti che poi Xenoblade a sua volta non ha inventato nulla lui ha attinto da altre fonti però questo gioco secondo me voleva un po' fare il verso a Xenoblade malissimo malissimo ok e vai è praticamente un drago così a caso vai the bot ma qua non mi posso buttare vero? no tutte le cose belle degli Xeno non le hanno messe quindi quindi per andare lì come faccio? porco zio devo tornare sulla macchina? no ah bisogna tornare torno alla regalia proviamo a tornare alla regalia ragazzi allora questo gioco qui comunque è una produzione milionaria e ci sono delle robe ci sono delle robe belle il problema è che hanno fatto il problema il problema è che il vero gioco non doveva essere la zona iniziale open world cioè questo gioco doveva essere un cazzo di corridoio che ti spiegava e ti raccontava una storia degli eventi e succede solamente verso la fine questa cosa hanno sprecato tutte le risorse a fare questa zona open world gigante per probabilmente scopiazzare lo stile di Xenoblade e hanno sbagliato totalmente hanno sbagliato tutto hanno sbagliato tutto hanno sbagliato tutto è una perdita di tempo c'era una direzione artistica e una storia e una lore e degli eventi da da sui quali concentrarsi e invece si sono concentrarsi concentrati a fare la zona open world piena di stronzate perché uno che vuole giocare un grpg non vuole giocare l'open world uno che vuole giocare il grpg vuole giocare il grpg vuole la storia vuole il binario narrativo il problema è che in questo gioco qui tu passi veramente le prime 15 ore tutte a fare cazzate a caso a fare dal punto A al punto B in questa zona open world e non è quello che secondo me dovrebbe essere Final Fantasy calandorf è una scelta è una scelta voler passare cento ore nella world map l'ho fatto anch'io l'ho fatto anch'io però deve essere una cosa opzionale cioè tu scegli di farlo non perché il gioco ti obbliga a fare fetch quest una dietro l'altra a caso Xenoblade in questo è maestro ti mette un botto di fetch quest ovunque ti mette un sacco di zone da esplorare opzionali però tu se vuoi seguire soltanto la mine quest ti fai il tuo bel viaggio con i tuoi compagni e segui la mine quest e secondo me questo gioco qui non si poteva permettere di metterti questo contenuto opzionale perché se ti mettevano questo contenuto opzionale il gioco non ci sarebbe stato il gioco sarebbe durato dieci ore neanche neanche dieci ore ti durava perché perché non hanno avuto tempo perché non hanno avuto tempo perché qualche capoccia square ha preso tabata e gli ha detto guarda vuoi soldi guarda ti copro di soldi ma tu hai due anni per farmi uscire questo gioco e i giapponesi i giapponesi non sono capaci di dire al capo supremo ma che cazzo stai a dire i giapponesi quando arriva il capo supremo a dirti guarda hai due anni di tempo per fare questo se tu dici di no viene licenziato infatti comunque tabata poi a me mi risulta che se ne sia andato dopo lo sviluppo di Final Fantasy 15 perché secondo me nemmeno lui secondo me è stato felice della situazione nel quale si è trovato cioè poi tutti pigliano per il culo tabata no more company ma cioè è sempre il frutto di decisioni che arrivano dai vertici ti danno delle risorse ti danno del tempo e poi sti cazzi e poi sti cazzi ti può andare il culo che ti trovi nel ti trovi in una situazione come Yoshi P dove ti danno del tempo del budget e riesci a fare bene ma se ti danno del tempo super ristretto e un budget relativo può anche non riuscirti perché poi non dipende solo da te dipende anche dal team col quale lavori questo gioco qui si doveva prendere minimo altri due anni di sviluppo minimo minimo e comunque non avrebbero dovuto focalizzarsi sulla componente open world poi ovvio che se a uno piacciono gli open world in generale questo gioco qua sicuramente ti può divertire però se a uno piacciono i GRPG magari apprezza l'open world fino a un certo punto ma comunque con una mind quest focalizzata qui la mind quest veramente cioè la mind quest qui viene tagliata perché ci fanno time skip su time skip viene tutto tagliato è tutto tagliato ma fantasy 15 lo puoi finire in 20 ore ma comunque 10 ore sono di fetch quest inutili nella zona open world comunque questo ragazzi è il gemello di Ignis cioè questo è il gemello cioè ma guardate lì sono identici hanno usato la stessa capigliatura ma porco zio ma pure lo stesso vestito cazzo cioè è vestito uguale è vestito uguale gli mancano gli occhiali l'acqua sembra l'acqua sembra avete presente le piscine sporche avete presente quando vedete proprio quelle piscine sporche con l'acqua putrida ecco è quello ma poi vogliamo parlare dell'impero di Nifalaima cioè tu a un certo punto ti aspetti proprio di visitare l'impero vedere la capitale imperiale e poi cuckuru cucu pure l'imperatore cucurucu Cucucucucu No, vabbè, l'imperatore lo capisci, no? Lo capisci che viene tipo trasformato in mostro Viene trasformato in mostro No, mi sembra che lo capivi, eh? Quando lo affrontavi lo capivi Parla con Dino Eh sì che sono pronto, vai, dai No, io Fenix L'avevo capito A me quella roba lì era stata chiara Però mi aveva fatto incazzare Cioè, io non volevo affrontare l'imperatore Trasformato in uno zombie di merda Cioè È una troiata Cioè tu mi hai costruito Nel trailer, in vari trailer Mi fai vedere l'imperatore Nel film mi fai vedere l'imperatore contro Regis E poi E poi E poi mi fai fare quella fila ridicola È imbarazzante, imbarazzante Let's go Cos'è? Cos'è sta roba? Capisci tutto il gioco di Hardin Che ti va ad azzerare la storia Tutto il gioco di Hardin Ti va ad azzerare la storia E ti rendi conto che nulla ha senso Cioè per 20 ore 30 ore Tutto quello che hai fatto Non ha senso Perché Hardin Volendo avrebbe potuto Fottere tutti Dall'inizio Senza stare a fare Tutti sti giochetti Che è un po' la stessa cazzata Che succede anche in Final Fantasy XIII Anche lì Quando il boss finale Ti fa capire davvero chi è Che cosa può fare Tu ti accorgi che Hai giocato per nulla Cioè volendo Poteva dal prologo Poteva già esserci Il combattimento finale Fai tutto un giro Che non ha senso Perché tanto il boss finale Era praticamente onnipotente Poteva fare qualsiasi cosa Quando voleva Sì ma Callendorf Perché tu vuoi Tu vuoi giustificare A tutti i costi Questa è la roba Aggiunta nella Nella versione King Giusto? Questa roba qui È stata aggiunta Vero? Praticamente È una cazzin Presa dal film È una cazzin Che hanno preso dal film Cioè anche lì Cioè quanti soldi Hanno sprecato Con quel film Glauka si chiamava Se non mi sbaglio Cioè c'è Cioè c'è ma vi Ma guardate Santo Dio Ma guardate Quella sembrava Sembrava la Diamond Weapon Cioè vi rendete conto Era questo che voleva la gente La gente voleva questo La gente voleva questo La gente Bastava poco Bastava fare questo Bastava fare Sta roba qui Nel gioco Non ci voleva tanto Ma Katai Aspetta Non è fare la fantasy 16 E nemmeno fare la fantasy 15 Quella è la trama Di fare la fantasy 4 E fare la fantasy 6 Di default Quella lì è la trama Di fare la fantasy 4 E fare la fantasy 6 L'impero che va a rubare I cristalli di qua e di là Anche se in realtà Nel 6 Non ci sono i cristalli Però comunque C'è l'impero Che va a fare Le sue maialate In giro E E poi Sì Comunque Avevano messo Delle premesse Ma perché ragazzi Avevano messo Delle premesse Affinché Final Fantasy 15 Attingesse tantissimo Da Final Fantasy 6 E Final Fantasy 7 Cioè L'impero Di Final Fantasy 15 Somiglia Moltissimo All'impero Di Final Fantasy 6 Addirittura C'è Aranea Che somiglia Molto al generale Leo C'è Ardyn Che somiglia A Kefka E poi Però Quella trama Non c'è davvero Nel gioco Cioè L'impero È soltanto Uno specchietto Per allodole È tutto Uno specchietto Per allodole È una roba Che fa veramente Incazzare Livello 99 Cioè Fa incazzare Dai Fa incazzare Fa incazzare Cioè Per me Non si può giustificare Non si può giustificare Non si può giustificare Ma poi Adesso Parliamo seriamente Ragazzi Non c'è empatia Non c'è empatia in questa scena Perché tu Non è che hai passato Le prime Nelle prime ore di fantasy 16 Tu Vedi dei personaggi Che hanno screen time Come Murdoch Come Wade Joshua Empatizzi con questi personaggi Poi succede il patatrack E ti viene da piangere In questo gioco Tu passi le prime due ore Adesso sto giocando La due ore Passi le prime due ore A spingere una macchina A correre nel deserto Ad ammazzare mostri a caso A fare robe stealti Ridicole A guardare le tette Di una meccanica E poi Ti schiatta il padre Non c'è empatia Non c'è empatia Non te ne frega un cazzo Non riesci a provare nulla Guardando sta roba Cioè Ragazzi Porco zio Se avessero fatto un inizio Dove tu stavi Nella capitale E parlavi di più Con tuo padre Vedevi di più tuo padre Se avessero fatto Se avessero reso L'attacco alla capitale Giocabile Una piccola sessione Dove usavi Regis Cazzo Regis Ragazzi È l'eroe È l'eroe Prendete della scorsa generazione Ti facevano usare Regis Zoppo Malandato Che mentre combatteva Pensava a Noctis Diceva Noctis È tutto nelle tue mani Bla 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 Giocabile Rendere giocabile Quel pezzo Avrebbe aggiunto Un pato Un pato Un'empatia A nessuno Non frega Un cazzo A nessuno Noctis Noctis va beh The Last of Us io non sono fan di The Last of Us mi sono anche addormentato non l'ho finito mi sono addormentato però il gameplay c'è dai il gameplay c'è in The Last of Us a me fa cagare quel gameplay lì però c'è no 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 Calandarfino sto parlando di loro è ovvio che loro loro sono presi no io sto parlando di me e del giocatore cioè il giocatore vede quella scena e non gliene frega un cazzo cioè io ho visto quella scena non me ne frega un cazzo perché non c'è stata empatia con Regis perché Regis non te lo presentano non ti fanno vedere nulla non ti fanno vedere Noctis nella sua nel suo palazzo nel suo castello non ti fanno vedere qualche flashback fatto bene di Noctis cioè proprio la costruzione della storia è stata omessa nel gioco vero e proprio cioè poi ci sono tonnellate di materiale fuori dal gioco ma a me che cazzo me ne frega sto giocando al gioco e nel gioco hanno omesso come puoi fare un open world JRPG e omettere tutto il lato narrativo tutto il lato di lore tutto il lato di flashback cioè poi mi fai morire i personaggi e pensi anche che a me dispiaccia non me ne frega un cazzo zero proprio mi dispiace molto di più per assurdo la morte di Murdock o di Wade in Final Fantasy XVI rispetto a quella di Regis pure l'inizio di Xenoblade 1 è un capolavoro è incredibile ed era un mezzo open world anche quello l'inizio di Xenoblade 1 è bestiale quando viene attaccato già sia all'inizio proprio l'inizio con Damban tu che usi Damban che bastava porca troia cioè ci sono arrivati in Xenoblade ci sono arrivati in Xenoblade che se tu vuoi costruire dell'empatia vuoi cioè Damban in Xenoblade 1 tu fino a quando lui non si unisce permanentemente io mica ci credevo che l'avrei usato io pensavo che non l'avrei mai usato oppure pensavo che sarebbe morto cioè qua in Final Fantasy XV hanno fatto delle robe ero già in completa empatia con la morte di Fiora eeeh mediamente mediamente perché era la sorella di Damban perché comunque hai passato diverso tempo a parlarci era l'amica di infanzia di Shulk si volevano bene eeeh vedi vedi Damban col braccio col braccio ferito che non può combattere e pensi che prima o poi morirà che poi Damban è un mezzo Shanks Shanks di One Piece però pensi che non ce la farà pensi che morirà poi ti torna senza praticamente senza il braccio eeeh con la mantellina proprio sul braccio ferito poi a un certo punto Fiora io pensavo che era morta veramente eh io ci avevo creduto che era morta veramente secondo me in Xenoblade 1 hanno fatto un lavoro magistrale magistrale totalmente fuori scala rispetto a Final Fantasy XV ma in Xenoblade mi hanno fregato anche non dico il nome del personaggio ma c'è un altro personaggio che verso la fine della storia ti tradisce eppure quello lì non me l'aspettavo pure quello lì non me l'aspettavo cioè lì Takahashi comunque si vede che sapeva scrivere si vede che sapeva scrivere cioè Xenoblade 1 a livello di storia secondo me è veramente un masterpiece non arriva ai livelli di Xenogears ma 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 è ottimo il problema di Xenoblade è un po' è un po' il gameplay che alla fine il battle system è una rottura di cazzo ma è comunque un battle system giochi devi pensare qua qua c'è poco da giocare da pensare poco eh molto poco ma me lo son visto anch'io il film prima di giocare a sto gioco ai tempi e ci sono rimasto di merda ci sono rimasto di merda quando mi son detto ma cazzo ma nel film ti fanno vedere delle ambientazioni della madonna ti fanno vedere dei personaggi bellissimi tipo Nyx tipo Glauca e poi è gente che non rivedrai mai più nel gioco cioè io mi aspettavo di rivederli nel gioco prima o poi no 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 e poi e poi qui veramente sei in mezzo al nulla cioè per tutto il tempo del gioco sei in mezzo al nulla sei in mezzo al nulla le città sono finte e è tutte per me veramente non si può giustificare cioè uno può dire mi piace ci mancherebbe ma non può dire non è vero alle robe che sto dicendo cioè non cioè non puoi dire non è vero cioè tu puoi dire guarda a me piace comunque e ci sta ci sta se fosse stato come l'hanno presentato come ci hanno fatto credere che sarebbe dovuto essere io sarei qui oggi il primo a dire è il gioco di Dio ma hanno hanno inserito così tante mancanze proprio a livello di trama di lore e di setting che per me è una delusione è una delusione senza senza contare il battle system cioè il battle system di questo gioco è ingiustificabile bastava copiare Kingdom Hearts bastava fare il battle system di Kingdom Hearts cioè Nomura se questo gioco l'avesse fatto uscire avrebbe avuto il battle system di Kingdom Hearts non avrebbe avuto non avrebbe avuto che tenevi premuto cerchio più R1 e giocava tutto in automatico in auto battle ciao Ida oh Omen è la truffa è una delle truffe più grandi della storia videoludica ma allora Cerberina sono sincero guarda sono sincero io Final Fantasy 15 l'avrei pagato anche 200 euro se mi avessero garantito il gioco che doveva essere così vale per Final Fantasy 16 mi sono preso la Collector per fede l'ho strapagata ma ero quasi certo che il gioco sarebbe stato una bomba di Final Fantasy 15 io non l'ho presa la Collector perché mi puzzava tantissimo perché ho provato la demo due demo entrambe le ho provate entrambe le demo ed entrambe le demo assolutamente a livello proprio di battle system non mi convincevano per nulla per nulla cioè sembrava un gioco in mano a degli sprovveduti sembrava un gioco in mano a gente che non sapeva sviluppare cioè proprio percepivi l'incertezza ecco nelle due demo di Final Fantasy 15 percepivi l'incertezza ed è gravissimo quando un titolo un IP grossa famosa con una storia alle spalle come Final Fantasy ti dà questo effetto cosa che assolutamente non mi ha dato il 16 per poter capire quello che dico bisogna avere un'esperienza di trascorsi cioè devi giocare Final Fantasy da 20 anni da 30 anni anche da 15 cioè devi insomma almeno dai tempi di Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 dai Final Fantasy 9 devi almeno aver giocato il 9 il 10 per capire che già dal 12 in poi a livello questa cosa si iniziava a percepire cioè già dal 12 lo percepivi che c'era in sicurezza nell'aria cioè fino a quando c'era Sakaguchi Sakaguchi magari anche contro le idee dei nuovi imponeva dei paletti e Final Fantasy era un gioco muscoloso che seguiva dei canoni c'erano delle barricate delle catene invalicabili e però sta a vedere la sicurezza nella sicurezza che non poteva essere brutto poi poi già dal 12 in poi questa roba ci sono stati problemi di sviluppo incredibili e si è sentito si percepiva nell'aria al day one poco prima del day one quando Final Fantasy 12 insomma era lì lì che doveva uscire lo percepivi che c'era qualcosa che non andava che c'era dell'insicurezza e infatti Final Fantasy 12 a livello narrativo è stato uno dei flop e per me anche a livello di battle system ma va bene questo è può piacere può piacere Final Fantasy 13 stessa cosa stessa cosa ha avuto lo sviluppo molto più lungo su playstation 3 doveva uscire prima doveva uscire prima addirittura forse Final Fantasy 13 era stato pensato per playstation 2 inizialmente e anche su Final Fantasy 13 si percepiva che c'era questa insicurezza che avevano cambiato avevano di nuovo stravolto tutto e non erano sicuri di quello che stavano facendo si sentiva all'inizio di Final Fantasy 14 io l'ho giocato al day one Final Fantasy 14 si sentiva anche all'inizio di Final Fantasy 14 questa insicurezza e poi si è sentita durante le varie demo di Final Fantasy 15 ed è una roba che se sei un fan da lunga data e sai uomini come Sakaguchi Ito e company hanno fatto non si può giustificare per me non si può giustificare ma non è una questione Ito contro Saka il fatto è che Sakaguchi aveva come suo uomo come sua hand la mano la mano del re era Ito c'era Sakaguchi il re e poi c'era Ito il suo cavaliere più fidato sono sempre stati insieme Sakaguchi aveva fiducia massima in Ito ma comunque c'era sempre l'occhio vigile e la direzione di Sakaguchi Ito ha sempre fatto in base comunque alla direzione che riceveva da Sakaguchi la stessa cosa Matsuno con Final Fantasy Tactics Matsuno senza Ito non sarebbe famoso come famoso oggi ma comunque c'era dietro Sakaguchi che ha giocato Tactics Ogre Ogre Battle era già fan di Matsuno e voleva che Matsuno facesse un Final Fantasy Tactics è stato Sakaguchi che ha detto bisogna fare Final Fantasy Tactics e serve Matsuno e serve Sakimoto e serve Yoshida non Yoshida Yoshipi Yoshida il disegnatore e li fece assumere in Square cioè comunque Sakaguchi era un visionario a livello diciamo di sceleggiatore o di programmatore è quel che è comunque tanto di cappello cioè il senso magari io fossi un quarto o un ottavo di quello che è stato Sakaguchi ma il genio di Ito comunque era sullo stesso binario di Sakaguchi è sempre stato un gioco di squadra tutti i Final Fantasy riusciti sono sempre stati un gioco di squadra vale per il 6 vale per il 7 vale in parte per l'8 però già già l'8 era una roba diversa perché comunque l'8 e il 9 sono stati in sviluppo quasi parallelamente Sakaguchi affidò affidò al team di Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 e lui si era messo in parallelo a lavorare inizialmente su Final Fantasy 9 e dal 9 all'8 ragazzi ce ne corre cioè quando Sakaguchi e Ito si sono messi seriamente su Final Fantasy 9 che cazzo hanno tirato fuori che cazzo hanno tirato fuori poi Sakaguchi ha visto Kojima ragazzi Sakaguchi ha visto Kojima ha visto Kojima cosa ha fatto con Metal Gear il fatto che Kojima era stato celebrato come regista di qua di là e voleva anche lui Sakaguchi ha detto voglio anch'io anch'io voglio essere celebrato come regista e ha fatto fallire Square però non è che siccome Sakaguchi ha rischiato di far fallire Square allora basta si va ad azzerare tutto il suo estro creativo il suo genio creativo e soprattutto ripeto Final Fantasy è quello che è stato fino al 9 perché c'era Sakaguchi che vedeva una roba e dice mentre loro disegnavano e facevano i cazzi loro Sakaguchi era lì a dire sì questo va bene questo non mi piace questo magari prova a fare un po' così sì questo è carino no cerca di farlo più stile così Sakaguchi comunque era sempre lì a dare le direttive ho fatto una retrospettiva ho fatto una retrospettiva a me non è piaciuto il day one Final Fantasy 9 perché io sono cresciuto il mio primo Final Fantasy è stato il 7 il 7 Nomura comunque lo stile di Nomura io l'ho adorato fino a quando poi ha iniziato a esagerare e fare troppi cloni ma Nomura fino a Kingdom Mars 2 fino a Kingdom Mars 2 ha spaccato i culi Final Fantasy 8 comunque riprendeva in parte Final Fantasy 7 ci stava Final Fantasy 9 spezzava totalmente e soprattutto Final Fantasy 9 era stato presentato inizialmente come uno pseudo cioè non era stato presentato come però i primi bozzi avevano portato a pensare che fosse Final Fantasy Tactics 2 quando poi è stato rivelato che era Final Fantasy 9 con quello stile con quell'atmosfera un po' bambinesca io al tempo non mi è andato giù non mi è andato giù però io poi me lo sono rigiocato da adulto e tanto di cappello Final Fantasy 9 è probabilmente l'ultimo vero Final Fantasy anche il 10 anche il 10 però il 10 già ha iniziato a sperimentare uscendo fuori uscendo fuori un po' dai canoni mentre il 9 secondo me è proprio l'ultimo vero Final Fantasy non a caso è stato comunque seguito da Sakaguchi ciao Calandor fa la prossima star run star run di Final Fantasy 15 se ogni volta metto in pausa fare le retrospettive durerà tanto tra l'altro ragazzi io dico soltanto la cosa siamo a 2 ore di gioco togliamo 13 minuti che ho parlato siamo a 2 ore di gioco praticamente ancora non abbiamo combattuto lol vai basta finito eh però che cazzo papà 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 ma loro sono a livello 3 perché il loro livello tipo è scritto in rosso perché io sono a livello 2 io che livello sono che livello sono io livello 6 ma scusa ma scusa ma perché a livello ma perché a livello 3 è segnato in rosso come se tipo fossero più forti di me non ha senso sta cosa papà 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 Ma se Noctis muore, è game over o mi possono risuscitare? Quindi non puoi morire, non puoi prendere game over E' impossibile prendere game over E' impossibile ragazzi prendere game over Ma tra l'altro io non ho capito cosa stiamo facendo Cioè perché siamo qui Ah ma tra l'altro ragazzi avete visto Fuori dal combattimento c'hai da capire Gen Ti curi in automatico Cioè non puoi morire Ok 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 Allora, vediamo dove cazzo mi devo arrampicare per arrivare là in alto. Ragazzi, questo gioco secondo me è più difficile di Elden Ring. Ma ce n'è un altro? Posso anche ignorarlo, no? Ragazzi, mi hanno dato tipo S. Ho preso tipo S come rank a qualcosa. Incredibile. Nemici sconfitti S. Cioè, mi hanno dato S, ragazzi. Tempo A. Tempo A. Nemici sconfitti S. Esecuzione D. Esecuzione D. Vabbè, almeno questo. Ma mi sembra di aver ballato, eh? Mi sembra di aver ballato. Ciao. E l'oracle Lunafreya ha anche stato pronunciato DEN. Esecuzione D. Esecuzione D. Esecuzione D. Esecuzione D. Non preoccupi. un'altra roba che fa incazzare Corleonis doveva essere uno dei membri del party uno dei personaggi più fighi della storia totalmente rimosso gli ha dato un ruolo proprio marginale peggio del generale Leo in Final Fantasy 6 usi più Sephiroth che Leo che Cor andando a Hammerhead ma il King è vero se sei cercato se sei cercato alla verità sai dove mi trovarai andiamo andiamo certo ... ... ... ... ... ... colonna sonora da 10 assolutamente assolutamente lui è micione lui è micione inizio saluta non saluto maleducato micione maleducato sto su fan fantasy 15 fino a quando non lo finisco proprio stasera stanotte domani domani per sempre fino all'uscita di fantasy 16 sarà meraviglioso ragazzi sarà un'avventura magnifica e soprattutto ragazzi sarà più impegnativo di elden ring perché io mi impegnerò nel provare a morire no seriamente ragazzi io mi impegnerò a provare a morire io prometto solenemente che mi impegnerò a provare a morire a provare a prendere game over ma sta scena ragazzi c'era anche nel vanilla c'era anche nel vanilla sta scena cioè noi sappiamo chi è quella tipa lì non ha senso noi sappiamo chi è quella tipa lì non ha senso anello di lucis così a caso ok è difficile dovrei rigiocarlo lo mettiamo come prossimo lo mettiamo come prossimo tier 13 è più gioco 13 è più gioco il 13 è un brutto final fantasy questo per me non è un final fantasy vai siamo tornati dalla lurida dal troione secondo me fa l'influencer lei di secondo lavoro fa le live su twitch ma per fare benzina va bene guarda così oggetti no ma poi c'è pure gente che tipo sfotteva Final Fantasy XVI perché a terra c'erano le lucine blu come oggetti eh ma ci sono anche qua ci sono anche qua in the end il vero Sid doveva essere questo comunque ragazzi dai il vero Sid è questo qua infatti si chiama Sid ok ce la posso fare ce la posso fare l'avevo rimosso lui onestamente mi ricordavo solamente Cindy bella bella la foto ah ok quindi Sid era un compagno di Regis da giovane ecco un bel capitolo su Regis da giovane sarebbe stato figo e invece no ci siamo beccati episode Gladius grande Gladius grande Gladius quindi cosa devo fare cosa qua qua tipo mi segna parla con Sid nell'officina e mi segna qua come come cosa e dov'è Sid? si è buggato il gioco? secondo me si è buggato il gioco si è teletrasportato ecco tu hai tu hai tu hai questo? è solo qualcosa che abbiamo trovato dopo aver portato un po' di impereali allora io sarò Crown City Mi sa che non mi conosci Marco, non mi conosci bene, questo non è niente. Ma che bastardo? Non si può guidare di notte Non si può guidare la città Ma cosa pensi che ci sia? Non lo so Il tuo piacere è che questo sia bene come la mia Siamo vediamo per noi Certo E la questione di quando Non credo che i cristalli sono andati I bambini hanno toccato tutto E ci siamo tornati Questo è molto da parte E' morto il padre Quindi Che bello Eh sì ma il problema è che la parte open world quando finisce E sono tipo Restano tipo 5 ore di gioco e finisce il gioco La parte non open world sono le ultime 5 ore di gioco Oh 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 vediamo la macchina non facciamo la cazzata di prima probabilmente la regalia è il quinto membro del party perché l'abbiamo giocato il 16 e non è stato fatto da sta gente qua è stato fatto da totalmente altra gente e ti posso garantire che nelle prime due ore del 16 è meglio è meglio del 90% del GRPG che ho giocato negli ultimi 10 anni ma Giardi tu non l'hai provata la demo vai a guardarti il video su youtube che ho messo ho messo le prime due ore di gioco di fantasy 16 come ti è sembrata orribile ma di che demo stiamo parlando? ma hai visto le prime due ore di gioco? cioè le prime due ore di gioco ti sono sembrate orribili? serio? la morte di Iris porco cane no ma in realtà cioè mi sono fermato ma non volevo fermarmi ciao Luca io non la penso così Giardi per me i personaggi sono tutto fuorché anonimi io penso che una caratterizzazione così non si vedeva dai tempi di Final Fantasy 9 questo deve essere il posto che ha parlato sembra che un hub per i giocatori Potremmo che conoscono qualcosa. Voi signori, mi piacere che sei sicuro. Monica, dove sono tutti gli altri? La maggior parte della Guardia di Crona non è arrivato. Era tutto ciò che possiamo fare per escoltare la Lady Eris fuori della città. Dustin è con lei mentre parliamo. Vedendo la resta del passaggio a Lestalum. Dio a te la maggior parte. Andiamo per la tomba royale. Il Marshal si attenzia. No, ma Crecor era pianificato che dovesse entrare nel party. E credo anche Aranea. No, non è vero. C'è, ti metti a fare cose senza senso, senza sapere nemmeno perché lo stai facendo. Cioè, qui stiamo facendo cose senza davvero sapere perché lo stiamo facendo. C'è qualcosa che ho bisogno. Poi, prima o poi lo provo, prima o poi lo provo. Ragazzi, bisogna rassciare qua, eh? Non abbiamo tempo. Cioè, esce quello bello. Adesso... No, questo è quello brutto, cazzo. Questo è quello brutto. Quello bello esce tra una settimana. Cazzo. 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 Daga del salvifico. That's not the only power your foreheads left you. Cioè ragazzi Corleonis doveva essere Il quinto membro del party E invece l'hanno relegato A una comparsa E' gravissimo E' gravissimo I think I can handle myself By myself You haven't lost your edge one bit marshal Still got an edge at any rate Hanno i teschi? Ah cioè Dici che Questi sono tutti teschi Sono tutti teschi Questo sarebbe un teschio La maglietta di core sarebbe un teschio Un saluto ad Arcangel Quindi è per questo che si vestono Tutti di nero Tipo al funerale Ma andiamo a fare due combattimenti Ma poi vorrei far notare una cosa Siamo a livello 7 Non ho mai combattuto Ho sempre rasciato tutto E siamo a livello 7 I nemici sulla mappa Sul livello 3 O 2 Perché? Per quale ragione? Per quale ragione? E boh E boh Come funziona? Devo correre da un party member A farmi resuscitare? Come funziona? Come funziona? Sì Ero Sì Sì Alla prossima Ma scusami, cioè loro mi mandano a 0 HP e io posso comunque usare una pozione per curarmi? Ma questo che cazzo è? Che cazzo di faccia c'ha? Ma perché c'erano sta faccia verde? È normale? Ma perché gli altri non combattono? Ma perché non combatte nessuno? Si è buggato? Non sono buoni! Si è buggato, ragazzi! Ma non credo proprio! È un bug e basta! Manco mi sta rigenerando gli HP, tra l'altro! Cioè, è incredibile, ragazzi! Si è buggato... Ho rotto il gioco! Ho rotto il gioco, raga! Ho rotto il gioco! Adesso è partito! Cazzo, livello 17! Perfè, zio, ma livello 17 è un po' troppo... Verrà, è un po' troppo, livello 17, ragazzi! ma scusate ma io sono livello 7 come ho fatto a distruggere un coso livello 17 oh curatemi stronzi ma è tipo core che fa dei danni assurdi oh raga ma che cazzo sta succedendo cioè ma l'intelligenza artificiale è proprio andata a puttane è andata a puttane raga si è rotto il gioco playstation 5 ma scusatemi ragazzi ma com'è possibile sta cosa ma imbarazzante ma No, guarda, anche dentro al quadrato rosso. Non fanno nulla. Non fanno nulla, anche se siamo dentro al quadrato rosso. No, guarda, anche se siamo dentro al quadrato rosso. No, guarda, anche se siamo dentro al quadrato rosso. Vediamo questi qua, vediamo questi qua. Ragazzi, io non ho usato mezza pozione, eh. Vediamo come si comportano questi. Questi sono, adesso, livello 3. Vediamo. 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 Nooo! ha esaurito l'energia vitale massima ah no ma non è comunque game over non è comunque game over non vogliono farmi morire ha esaurito l'energia vitale massima premi R2 e rianimati subito con un oggetto ma com'è possibile e se non lo faccio ok se non lo fai è game over va bene ok no e non capivo non capivo mi sembrava cioè non capivo dicevo cioè quelli che ti danno ancora qualche secondo di tempo dopo che in teoria ti prendi il game over ok ok va bene si può morire ragazzi incredibile incredibile maaa ah quindi pratica ah cazzo ho perso tipo tutta tutta l'esperienza vabbè dai fa nulla era giusto fare una prova era giusto fare una prova chissà se si ribagga di nuovo tutto vediamo se si ribagga tutto oh 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 No, 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 no. Ok, no, adesso non si sono buggati, adesso non si sono buggati. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Direi che è un'esperienza, come dire, interessante. E per far ritornare il massimale pieno devo dormire? No, 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 no. Tra l'altro, cioè, notate le texture di questi muri, per favore, cioè, notate le texture di questi muri e della differenza, della differenza con Final Fantasy XVI, cioè, tutti dicono che Final Fantasy XVI ha una grafica di merda, ma, cioè, notiamo un attimo la differenza tra questi muri. Grazie a tutti! Ah, ce n'è un altro, bastardo! Ah, ti ridà tutto, ti ridà tutto! E' impossibile perdere. E' impossibile perdere, è impossibile morire. Ma non serve... ma, Adam, non serve... perché devo usare l'abilità del party? Ho ucciso un tizio... io sono livello 7, ho ucciso un tizio livello 17 tenendo premuto quadrato ed R1, perché devo usare l'abilità del party? Perché uno deve fare cose se in realtà non servono? È un'illusione e basta, è una presa per il culo. La statua del re fondatore emana un'energia misteriosa. Sì, ma pensavo che in questo caso qui, col fatto che avevo l'energia quella grigia che mi si era ridotta, mi rigenerasse con l'energia grigia ridotta. Cioè, mi rigenerasse fino a dove era arrivata l'energia grigia. Però effettivamente non ha senso perché l'energia grigia si era zerata. Ah, già che c'erano le torce. Al tempo ci sembrava la rivoluzione... ci sembrava la rivoluzione più incredibile della storia del videogioco, la torcia. Sembra la Calabria con gli abusi di Rizzi, è vero, è vero, è uguale. È identico, è identico. E seguiamolo. E seguiamolo. Vabbè ragazzi, si sono ispirati all'Italia, cosa c'è di male? Ma il senso di ste caverne, bunker... è tipo un bunker... è tipo un bunker militare sto coso. Ferre ragazzi, non ti sento qua. Vabbè ragazzi... è vero. Vabbè ragazzi... Vabbè ragazzi, ci è vero. C'è Venezia e c'è la Calabria Non è una figata? Io non ci passerei là Ragazzi senza le musica della Shimomura Questo gioco qui sarebbe stato veramente un gioco da 3 Come on, now! Right there! Try this! The French of Peace Yep Catch now! We are good Better than good Good to go Don't bother, Noct It won't open C'è, hanno tipo la forza di distruggere un mecha Nel 17 non riescono a sfondare un cancello arrugginito Ok, va bene Oh, elixir Ma questo? Sembrava uno zombie Un saluto a MTTBFF E togli ti È la madonna È orribile sto coso Non fa nulla Non attacca, non fa niente Raga, non fa nulla Attacca per finta Vabbè Questo qualche danno lo fa Dai Questo qualche danno lo fa Dai Ok 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 I'll keep for later Something's a little cool Roto, you're up Watch yourself No, I know Nice one, Roto Pure i Goblin Vabbè, dai, sto combattimento qui Un briciolo Un briciolo ci può stare Ci può stare, dai, ci stava Ci stava Ah, ma era il boss, quindi, quello Era il boss Era il boss Era a livello 12 Ma perché Credo che siano i mostri del sottosuolo Che sono più forti Tragedia Tragedia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In questo gioco Non ha senso Non ha senso Ma Mi posso teletrasportare fuori? Ma mi devo teletrasportare fuori Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Avanti dove? Avanti dove? Avanti dove? I believe you've met Monica, she can fill you in on the details. Go see her. What's up? Eh, people to see, bases to burn. Let's go see Monica at the outpost. Ok. Core era con noi due secondi fa, adesso non c'è più. Come to think of it, we did spy a large structure. Yeah, hard to miss an ominous thing like that. Ain't gonna be easy taking down a whole stronghold. Can we really do this? The marshal believes we can, or he wouldn't have asked us. But first things fast. Right. Let's head back to the outpost. Sufficient forse la version finale, ma... Non vedo così tante differenze con la versione... Con la versione che ho giocato io, onestamente. Cioè, praticamente, cioè, sembra ambientato in un carcere africano, tipo quelle zone. Ci sono tipo dei carceri in Africa, in Sudafrica, dove prendono proprio delle intere zone, degli interi isolati, tipo dei paesi interi, li recintano e dentro li lasciano, li lasciano autogestiti. Autogestiti, proprio. Tipo, tipo una città, una città autogestita dove viene incarcerato là dentro e non puoi più fuggire. E sembra una di quelle città lì, sta, sta zona. Carissimo Gangu Chui, me lo sto godendo a livello 99. È meraviglioso. Sì, 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 stavo parlando proprio di quei carceri Sud America o Africa. Ho visto un po' di documentari. Esistono, esistono veramente. Dentro si creano la loro società. C'è un capo. Ci sono le gerarchie. E una volta che sei là dentro devi fare quello che ti dicono di fare, punto, eh. Cioè, non è che prendi, fai i cazzi tuoi. Cioè, ti dicono che ti devi fare inculare. Ti devi fare inculare, punto. E devi anche ringraziarli. Li devi anche ringraziare. Le strade sono pericolose a niente. Lasciatemi per la mattina. No, il capo è Leon. Sì, sembra bene. Ma dov'è la... la roulotte? Acqua. No, non la vedevo. Ho giochicchiato il primo e il secondo, ma non mi fanno impazzire. Non mi fanno impazzire. No, non mi fanno impazzire. perché ho messo la modalità risoluzione più bassa per avere il gioco fluido. sennò scattava in una maniera imbarazzante. No, non mi fanno impazzire. No, non mi fanno impazzire. Non ho capito sto dialogo, ma va bene. Ha, grande silver! Grande silver! Qualcuno sicuramente non mi vuole proprio bene bene bene, però ormai... Fatemi accendere la luce che qua sta scendendo il crepuscolo. Non mi ricordo, non mi ricordo se me l'hai data tu, Devi. Onestamente non mi ricordo. Però, vabbè, ti ringrazio. Però non mi ricordo. Malutz è quello che ha dato la botta finale. E quello che ha dato la botta finale... Eravamo tipo a 77 e ha donato lui di botto tutto quello che mancava. Voleva proprio vedermi soffrire. Ma qua... Cosa... Cioè, come... Come cazzo? Come ci si arrampica qua? Cioè, ma scusa, ma... C'hai sui cazzo di teletrasporti e non usa i teletrasporti? Perché il più be... Ovvio, il gioco che vende di più è il più bello. Solo che... E fa una fantasy 7. E fa una fantasy 7 quello che ha venduto di più, però. No, 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 no. Ma il senso di fare questi allenamenti qual è, ragazzi? Cioè, ha senso? Ah. Uè, grande dente Chan. Ma io, ragazzi, non capisco qui come... Come si fa ad andare. Cioè, lui potrebbe teletrasportarsi e non lo fa. Ah, è qua. Ma che cazzo? Ma vi sembra normale. Ma, ma vi sembra... Ma cos'è? Ma che cazzo? Ok. 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 La roba che mi fa ridere è che Silver sta trollando. E invece Giardy è serio. E questa è la roba che mi fa sorridere. Cioè, Giardy ci crede veramente che Pagia Fantasy 15 e Pagia Fantasy 16 siano uguali. E' gravissimo. E' gravissimo. E' gravissimo. E' gravissimo. Abbiamo iniziato il nostro ambasso. Pugniamo iniziato mentre il supporto pugga iniziato. Pugniamo gli enemy da due strada. Sconfiggete gli imperiali! Per ora preferisci il 15. Ma fai bene Giardy. Fai bene. Fai bene. Guarda che gameplay della madonna. Questo si che è gameplay. Best gameplay ever. E'el spoiler. Irride-aetera. Ti moda? Tu personal innanzitale sono una offensive comescheamっていう. Per ora, scolta questo. Prolie. Pa, 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 pa Oh ragazzi, nemici sconfitti S Ragazzi, nemici sconfitti S Brablo Bastava tenere premuto per vincere E tu invece premevi tutto senza capire Il bello è che non ti fanno capire Non ti fanno capire come arrampicarti in alto Sì, sì la No ma non me la fa fare la proiezione in alto Oh raga non me la fa fare Che c'è madonna No ma non me la fa Pa 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 Ragazzi è la Calabria Gli abusi edilizi della Calabria Sono quei centri commerciali che iniziavano a costruire e poi li abbandonavano La roba è che la roba assurda è che non ti fa Madonna che merda Imbarazzante Imbarazzante Non si teletrasporta ragazzi è incredibile È incredibile Non si teletrasporta C'è il teletrasporto è fatto talmente male Che anche se tu hai il triangolo che esce fuori Non ti ci fatele trasportare Oltretutto ho finito gli mp E non si stavano Non si stavano rigenerando Ragazzi guardate Guarda io lo tengo premuto Guarda io lo tengo Affidati di più ai tuoi amici Affidati di più ai tuoi amici Dove cazzo devo andare? Dove cazzo dobbiamo andare? E' qua Uè grande Luke E' iniziata la run La rana Franky's run Final Fantasy XV Franky's run O troll run Come preferisci Eh sono Sono allo stesso livello Sono allo stesso livello eh Ma sto tizio qua c'è sempre stato? Sto tizio qua c'è sempre stato anche nella vanilla Mica me lo ricordavo Ma hai ricordato Ma hai ricordato giuro Abbiamo finito le pozioni Attenzione ragazzi Attenzione Ok Ok Ma hai ricordato Come Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Arrivo subito ragazzi, scusatemi un secondo! Alla prossima! 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 Final Fantasy XV! Best Game Ever! Alla prossima! 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 E' stato difficile Perché non avevo più pozioni Cioè questo è uno dei personaggi più fighi Della storia di Final Fantasy Finita la sua parte Finita la sua parte Tremendo Così, parte a caso Valz di Fantastica A caso Questa è la sua parte Ma chi vuole che sia Elden Ring non ha mai giocato un Bayonetta o un Devil May Cry. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un gioco dove devi premere dei tasti. No, il Prince elude la morte. E cosa ha l'Elusivo Ring? Cioè io dico soltanto una roba ragazzi. Qui c'è l'Impero e ci sono i generali dell'Impero. Cioè tale e quale a fare la fantasy 6. Solo che poi a un certo punto hanno tagliato tutto. Proprio di botto hanno tagliato tutto e non ha più senso nulla. Hanno tagliato tutto. Cioè basta. A un certo punto hanno preso la gomma e hanno cancellato l'Impero. L'Impero basta. Basta. Cioè hanno tagliato un CD intero di storia. Poi Ravus c'è una storia della Madonna perché se non mi sbaglio... Adesso non mi ricordo bene, ma Ravus mi sembra che era un traditore. Ravus era un traditore se non mi sbaglio. Forse il fratello di Lunafreya. Mi sa che il fratello di Lunafreya ha tradito... ha tradito. Era il fratello di Lunafreya se non mi sbaglio. Non mi sbaglio. Manco me lo ricordo nel film, io Ravus. Non mi sbaglio. 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 ma sicuramente del 15 anni luce avanti e dipende da che punto di vista si vuole fare un'analisi del battle system se vogliamo analizzare senza onestà intellettuale qualsiasi Final Fantasy è un conto se vogliamo analizzarlo con onestà intellettuale anche il battle system del 9 in realtà o dell'8 o del 7 non sono chissà che se ti metti ad analizzarli oggi e fare un clone infatti non a caso in Final Fantasy VII Remake hanno inserito una componente action che lo ha risanato totalmente perché il battle system del 7 1 a 1 originale oggi come oggi è troppo invecchiato male è sterile non ha senso giocare a Final Fantasy VII cioè non ha senso prendere un gioco di oggi e metterli sopra il battle system di Final Fantasy VII ma manco ma manco dell'8 e del 9 abbiamo fatto benzina e il 16 ha un ottimo battle system perché ti obbliga a giocare a giocare a ciclare gli icon a schivare a parare a memorizzare i pattern dei nemici 10 è tutta una questione di farmare la sferografia è figlio del suo tempo sicuramente è meglio quello del 10 rispetto a quello del 7 però anche il 10 quando vai a rompere i limiti i limiti della sferografia e vai a maxare tutti i personaggi diventano uguali ma quindi c'è mi costringono ad andare a cazzeggiare con il ciocobo cioè uno non vuole farlo e deve farlo ed è obbligato il sistema di crescita di Final Fantasy XVI non lo conosciamo ma di sicuro è meglio di quello del 15 per me per me il 12 è invecchiato malissimo dal punto di vista del battle system a me non piace di solito chi ama Final Fantasy XII sicuramente ho fatto una walk sulla sferografia non è niente come la natura nel medio di nulla ma a me basterebbe anche un Final Fantasy XII remake col battle system pure del 10 pure del 10 ma anche ma per assurdo pure se gli mettessero il battle system di Xenoblade già già cambierebbe tutto proprio rimuovendo i Gambit i Gambit i Gambit i Gambit ti ammazzano i Gambit veramente sono la roba più noiosa pallosa la tabella dove devi sbloccare pure addirittura gli equipaggiamenti per poterti equipaggiare la roba è proprio una roba è stata una sperimentazione è andata malissimo se no ragazzi avrebbero fatto qualcosa di simile e non l'hanno mai più fatto vuol dire che hanno capito la storia non può essere un problema nel 12 perché non c'è Silver ma infatti credo che non li userò mai credo che non li userò mai compagni non ha senso farlo ma secondo me Tabata non ha mai toccato un videogioco in vita sua allora magari mi dovrei comprare qualche pozione le ho finite mamma mia sta roba da open world mi fa venire il vomito mi fa venire mi fa venire hanno tutti i miei i miei le ho i miei la Ma le pozioni dove si comprano? Qua? Qua? Cazzo, Fenixdown costano mille? Porco zio. Cazzo. Cazzo. Grazie a te. andiamo better make tracks ignis we're going on my way finire questo gioco in quattro ore ci sto giocando adesso da quattro ore something's a mess come on uh-huh ah adesso c'è la parte dove tipo devi cercare le tracce che palle questo era anche nella demo questo era nell'ultima demo mi sembra questo pezzo ah no 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 ci sono anche delle belle animazioni è Perché quando vedi Quando Noctis finisce a terra E tipo arriva Gladio Che gli dà la mano Per farlo rialzare È bello È carino È fatto bene No, no È meglio Forspoken Dai Rispetta sta roba qua È meglio Forspoken A livello di gameplay Almeno in Forspoken Devi premergli i tasti Comunque, c'è Io dico soltanto una cosa Noctis, hai fottuto teletrasporto E non è in grado di usare E non è in grado di E non è in grado di teletrasportarsi Sopra queste rocce Cioè è È non imbarazzante Di più Non imbarazzante Di più Non si capisce neanche dove cazzo devi andare Cioè questa è la roba che ti fa incazzare Non si capisce un Cristo Non si capisce Non si capisce No, non qui Morgoth Qui non puoi Qui devi trovare un'insenatura Tra le rocce Non si capisce un'insenatura Cioè è proprio È stato studiato Per farti perdere tempo Ma il veleno ragazzi Quanto cazzo dura? Raga quanto dura il veleno? Vai Finito Non si capisce Ma è normale che trovi a terra in una zona così degli appunti, dai cazzo. Eh, un po', un pochetto. Alla prossima. E' micione ragazzi, è lui, è micione. Forse è più gazzu, è più gazzu. Gazzu il mio gatto, eh. E' un gattone nero senza un occhio. Micio Fosco. Ragazzi, è micio, è micio. È micio, è micio. Io due carezzine gliele farei. Sono arrivato al boss di fine demo, ma dopo un po' di tentativi ho mollato perché mi hanno rotto le palle. E' tutto studiato per rallentare e farti perdere tempo il più possibile. E' un po' di tentazione. 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 Ma proprio tutto il 15. Tutto. 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 Che palle. Che palle. Che palle ste robe stealth. È proprio studiato per farti perd... Oh, ragazzi, è studiato per allungare il tempo e farti perdere tempo. Scandaloso. Cioè queste sono proprio le cose da non fare mai Nei videogiochi Cioè queste cose qui fanno incazzare Basta Basta No ma proprio non ha senso fare lo stealth con un behemoth Se poi dopo due secondi ci devi combattere Cioè fosse stato un nemico veramente a livello 99 Che non c'era modo di affrontare ok Ma se poi il gioco me lo fa combattere dopo due secondi no? Tutta questa sessione è invalidata Non ha senso Ma poi sta facendo un giro che non ha senso Ragazzi sta facendo un giro che non ha senso Sta tipo tornando indietro Ragazzi è fatto solo per farti perdere tempo Sta girando in tondo Ragazzi sta facendo un giro che non ha senso Sì sì mi stava addormentando eh Mi stava addormentando Ma poi ma poi porco cane Perché devo ammazzare un behemoth Cioè è un gattino è un gattone È qui tranquillo a fare i cazzi suoi Perché devo ammazzarlo Cioè è una roba non sense È proprio una roba non sense ragazzi Cioè io sono contrario Ad ammazzare sto povero behemoth Ma poi loro erano già arrivati Scusate come cazzo è sta storia Loro erano già arrivati Eh ma se fossi io Cioè io il behemoth l'avrei adottato E gli avrei fatto tante carezzine Perché è un micione Cioè ragazzi Occhio fosco è un micione Dai Cioè come si fa a volergli male È un topolone Sentite che mi ago lì i dolci Secondo me vuole darci tante testatine E come faccio a far Come faccio a far esplodere Ma scusa Ma come faccio a far esplodere i barili Non me li fa colpire Non me li fa colpire Come si usa la magia Come devo equipaggiarla Come faccio a far esplodere i barili Me ne ero dimenticata sta merda E me ce l'ho già Ce l'ho già l'ampolla magica Come funziona Allora aspetta Allora aspetta Ho detto Scegli un po' la vuota Per la distillazione Equipaggia Io premo equipaggio Ah cioè questa roba qua Si equipaggia sulla spada Ah no Deve equipaggiarla Al posto della spada Ma non ha senso sta cosa Allora aspetta Mamma mia Ragazzi è imbarazzante È una cosa Imbarazzante È imbarazzante Giuro Basta Qua non ci viene più No vabbè ragazzi Questa è la denuncia Questa merda Questa merda Questa merda È la denuncia Oltretutto Adesso è buio Non si vede un Cristo Oltretutto Non esplodono I barili Non esplodono Vabbè Senti O me ne fotto No non posso Fottermene Mi uccide con un colpo Non ho voglia Raga Non ho voglia Non ho voglia Cioè io mi rifiuto Mi rifiuto Mi rifiuto Cioè chi Chi ha concepito A livello di game design Sta cosa È un povero coglione È un povero coglione Cioè proprio Non c'è alternativa Non c'è alternativa Non c'è Cioè proprio Non è che È un bravo game designer È un game designer medio È un game designer scadente O è un povero coglione No no Cioè l'alternativa è È un povero coglione O è un povero coglione Non c'è Non c'è altro Non c'è altro Cioè io voglio morire Non mi fanno morire Raga Io voglio morire Non mi stanno facendo morire Torna al titolo Torna al titolo Fanculo Me ne torno al titolo No dai È imbarazzante Sta roba È imbarazzante Dedicato ai fan Di sempre I nuovi amici Di Final Fantasy Ma che cazzo State a dir Ma che cazzo State a dir Ma cioè Ma questa è La trollata definitiva Cioè È la bestemmia finale Final bestemmia Non Final Fantasy Madonna santissima Madonna santissima Madonna santissima Madonna santissima Imbarazzante 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 No ma come? Salvataggio automatico Ma io credevo Ma io credevo che ci fosse Il salvataggio automatico Quello vero Cioè non mi ha salvato No vabbè raga Non mi ha salvato Tutto il pezzo Del behemont Cioè ho perso 40 minuti di gioco Cioè io credevo Che ci fosse L'autosave Prima Vabbè ragazzi Ma questo è il peggior Gioco della storia Cioè soltanto Un figlio di Troia Può aver concepito Un autosave Del genere Grazie